dove i materiali diversi si incrociano a nuovi colori. Io non lo ricordo, è in Corso Verdi, qui a Gorizia, andatelo a trovare. Come dicevo prima, cominceremo con un'altra collezione. Marinig, confezioni Marinig, piazza Cavour 25, Mon Falcone. È proprio in centro. Con la sua grande esperienza e un personale altamente qualificato, ti sarà vicino per realizzare tutti i tuoi sogni. Confezioni Marinig è un grande negozio con una vastissima scelta dall'abbigliamento casual ed informale agli abiti da cerimonia. Tra i brand potrete trovare Wurridge, Ghent, Canadian, Eclé, Marina Sport e molti altri. Ne ho nominati solo alcuni, se no si faceva troppo lunga. Confezioni Marinig si mette al vostro servizio per soddisfare tutte le vostre esigenze anche nel giorno più bello e importante. Non a caso è stato invitato qui quest'oggi. Oggi infatti, Confezioni Marinig è qui per proporre il suo sposo. Uno sposo dello stile inconfondibile e raffinato, con le scarpe e gli accessori che ne sottolineano l'eleganza. Ma non ci fermiamo lo sposo, anzi in questa prima parte, ci tengo a ricordare, potrete vedere un assaggio delle nuove proposte da cerimonia, sia per donna che per uomo. Noi abbiamo fatto una piccola selezione, però da Confezioni Marinig potrete trovare molto altro. E cosa più importante, ricordo che Confezioni Marinig veste tagli anche più comode e generose, che vanno ben oltre la 46. Signori e signori, vi ricordo, Piazza Cavour 25, Monfalcone. Grazie mille. Grazie mille. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti